ciao allora oggi volevo provare a fare con voi questo esperimento tema natalizio direi dalla dalla foto che è un albero di natale della tiger che avevamo trovato assieme se vi ricordate in una busta a sorpresa allora non sapendo esattamente che cosa è questo uovo con un gancetto mi sono andata a leggere le istruzioni e non è che mi aiutano più di tanto perché intanto ecco figura salizia in crescita ok va bene però il resto sono sulle avvertenze quindi non mi spiega come fare anche se comunque sia guardiamo un attimo qui dice di 1 metterci l'acqua poi dopo 24 ore cresce un po e dopo 36 dovrebbe essere al massimo e si seguire a te mio dito mi sono schiacciata prima perfetto è esattamente però immagino che l'acqua va già messa da qua però quanta quanta ne metto proviamo a metterlo fino a qui fino alla tacca proviamo e vediamo eccomi di ritorno dunque ho messo l'acqua e adesso però fa riflesso non si vederà più aspettate ok ho messo l'acqua fino a quindi fino al segno vediamo in 20 aspettate che riprendo le istruzioni 24 ore 24 ore cresce un po e 36 cresce del tutto quindi noi adesso lo mettiamo la sul mobile e poi ci riaggiorniamo tra 24 ore e poi 36 e voglio vedere assolutamente che cosa viene fuori video aggiornamento dopo neanche mezz'ora perché ho parlato con mia mamma che lei ne ha già fatto un altro di un altro disegno e va riempito tutto quindi ok lo riempito fino in fondo adesso non lo muovo se no esce tutto eccoci qua e come abbiamo detto ci aggiorniamo tra 24 e poi 36 ore per vedere allora sono passate 24 ore e questa è la situazione dunque l'acqua c'è ancora direi più o meno tutta e posso notare che lui e l'alberello si è ingrossato cioè è diventato più grosso non più alto sempre alto uguale però è più grosso quindi forse con calma crescerà non lo so dice adesso 24 36 ore noi guardiamo in questo punto domani perché 24 ore si è ingrossato quindi qualcosa funziona però voglio vedere se cresce anche in altezza vedremo allora aggiornamento sono passate 48 ore quindi due giorni sinceramente non si è alzato ma è grande cioè è ciccione ha preso aspettate quasi tutta la parte in fondo però non si è alzato di tanto un pochino si è lo vedo alzato io voglio vedere loro dicono aiuto la voce 24 36 ore siamo già 48 quindi due giorni io voglio vedere andare avanti lasciandolo sempre in acqua se cresce di più con l'ultimo aggiornamento allora io non so se crescerà ancora ma non credo anche perché è diventato davvero grosso rispetto a prima fatto sta che sono passate certamente più di 36 ore però aspettate è bello grosso riempie quasi tutto il lovetto quindi io direi che è un po' un albero pendente però è carino è stato carino da vedere se per caso crescerà ancora diciamo che sono passati quattro giorni altro che 36 ore però se per caso crescerà ancora vi aggiornerò su instagram e intanto io direi che l'esperimento comunque sia è riuscito se vi ho tenuto un po' di compagnia se vi è piaciuto il video mi raccomando di mettermi un like iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella così verete avvisate ogni volta che carico un nuovo video e noi io e l'alberello ci vediamo alla prossima ciao